Va bene, faremo un 3-3 Oppure, vabbè almeno sono in pari e non sono triste Vediamo Vediamo Paladino, ok Questa e questa? No, andiamo Non penso che posso capire di peggio di un 8 e un 6 Ok Ho shitload di magia Ho una sola creatura, bene Allora, almeno sono al turno 2, quindi Via Fine Posso giocare questo e poi magari buffarlo Ho un po' di roba, dai Allora, al turno 2 posso anche giocare questo e pescare Non è male pescare con sto mazzo, onestamente Può giocare questo al turno 3 e buffarlo il turno dopo Si può fare, vediamo Let me think Pedina Giochiamo la pedina Sì Ok Posso ucciderla con questo e pescare la carta Ok Danno Bene Ok Posso giocare il mio Divine Shield il prossimo turno Ok Anche tu Divine Shield Va bene Dov'è Dov'è Qua Andiamo Se mi attacca questo glielo uccido con il mio Facchio Vabbè No No please Ok Fastidio Ho buttaglielo giù prima che Brutte cose succedano Dov'è Attacco Hmm Can giocare anche questo Presumo O se valga la pena onestamente Allora Le opzioni Ok Ok C'è l'unica cosa che possa La cosa migliore che possa fare adesso è questo Ok Va bene Mi va bene Vediamo cosa vuole fare Ok Me lo cedico la pedina Va bene Con il mio swipe Uh Però vuole giocare questa roba Fanno 4 danni Eh Sì Natale ho 2 mana Posso anche fare questo Come Dove un danno in meno Possiamo tornare posso giocare il mio Stormwind Guarda sto cazzo lì E poi il turno dopo lo buffo Se vive Lo buffo sia con questo Che con questo Oh oh No buono No buono Oh shit Ok Ehm Il big plan qual è? Te lo devo uccidere Ehm Sono così Ok Ah Ah Sono mica Dice l'hero power Sono knob Ah Ok O meno l'ho fatto fuori con la roba Va bene Molesto ma C'è di peggio C'è di peggio Allora posso giocare questo E il vrat Ok Ok Va bene Va bene va bene Va bene Vediamo Vediamo cosa fa Va bene No No Ok Stavo peggio Spammando Bagiglion taunters Com'è Allora Il piano è questo Gioco questo E poi Lo buffo Con questo Ok Poi gioco Il Drizzly E poi Uccido questo Bene Ora un bel po' di roba In campo E non può ci rimanere nessuno Di per sé così Probabilmente avrà qualche buff Qualche roba Non sente Ecco Va bene E comunque un 66 Vediamo cosa sceglie di fare Knife juggler Ok Si suicida su quello Abbastanza ovvia Come cosa Il gatto ha avuto accesso Al mio studio In qualche modo Dalla finestra Si presume Adesso ci farà compagnia Mentre Mentre giochiamo Allora ok Adesso non far niente Va bene Ho 10 mana A giocare queste due carte Oppure Si Oh 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 Sono ritardato Mi ero dimenticato Che dava un card draw Va bene Allora Questo può Far fuori sta roba Cosa c'è di pericoloso Quello Se mi suiciderò Il taunter Onestamente Non ha tipo Super senso Tenerlo vivo Questo è piuttosto grosso Se continuo a lasciarlo vivo Quindi Vamo fare questo Knife juggler O Non sono knife juggler Si Va bene Vediamo Qual è la sua risposta Per esempio Per esempio Torno allo swipe Però se ha quella cassa di carta Va bene Ma fa solo due danni Quella del paladino Può comunque Ripulirmi tutta la board Ok Presumo che Se lo suicidi No Se lo mi attacchi 2-2 Non vedo Cos'altro Potrebbe Dovrebbe fare Va bene Va bene Ok In realtà Con la cosa lì Posso semplicemente Ignorarla Vediamo Vediamo cosa gioca Allora Ok Era stata prevedibile Fortunatamente Ho la zure drake Quindi E invece Non ho la zure drake Attacca quello Attacca quello Se è furbo Fa fuori la zure drake Perché altrimenti Ho solo swipe E gli faccio molti Oh Si Grazie Ah Quello ha Fuck Va bene Comunque Oh Oh Ciao Sono un sea giant Swipe Va bene Ok Non è una buona situazione Perché non ha carte Quindi Ho quella carta Che ha Lo salva Sicuramente Suiciderà Lo easy Snap Jolie Sul Sul mio coso Ok Perfetto 8 9 10 11 12 Non riesco a ucciderlo Però Va bene Non so che Semplicemente Andrò su di lui Va bene Vediamo cosa riesce a fare A 4 di vita Se con la carta È una magia Penso che sia solo una cosa Che possa fare Doppio consacrate Ok Non aveva niente Bene Ok Moonfire Sbloccare Un po' Di spell Avanti Tan 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 Sbloccare